Yo raga come state il vostro Gio e come se ci parla e oggi siamo tornati su Half-Life 2 Si questo video doveva uscire un bel po' di tempo fa solo che ho avuto un'enorme quantità di problemi E adesso siamo qui con questi nuovi amici Si vi ho schifato praticamente l'intero capitolo con la macchina per veramente vedermi guidare per chissà quanto tempo è noioso E quindi sono passato direttamente qua Oggi andremo ad attaccare, si, la prigione, Nova Prospect Quindi siete pronti, bestie tanto brutte? Lo prendo come ostia, andiamo Oh cazzo Ok, ste cose spaventano le formiche leone E andiamo di spegnere su chi vuoto Ok, la misa che arriva gente Eccoli Oh mio dio E' tornato Quest'anno ancora abbiamo perso che abbiamo finito tutte le munizioni nel capitolo di Ravenholm Ma adesso finalmente è tornato Ok, ci stanno ingenti Senti, ma ho visto che ce l'ho Perché non uso questa? Tanto userò sempre le altre armi Ok, adesso posso abbassarli Sbastardi Seguitemi, bestie Oh Buongiorno E' un barile Va bene Ti stanno sul cazzo il barile, va bene Adesso non ti stanno più sul cazzo i barili Eccoli Guarda cosa guarda si stronzi Mi tiro gli schifi Sono tutti morti E' l'altra da qua Quello Va bene Fuori dai colloni Sì, ma E' ferma immobile Oh cazzo Aia Adesso se ne va Dove fare Molta attenzione a come salto Oh lei Non mi conviene a stare lì vicino Ecco lì Ma qua si è buttato giù dalla scogliera Allora, le cazzo si sono figlie adesso Insieme a una piscina con Corpi morti Ma cazzo Ehm Devo di cecchinarli Vaffan Oh cazzo Però me l'ho spottato adesso Lo sento Ecco perché ho andato Quei razzi lì C'è una gunship Olè Oh, un giorno Oh cazzo Dentro Non c'è Ok, pronti Tiriamo giù quell'altra gunship Oh cazzo Non c'è altra gente lassù Aspetta, magari di qua Mancata tantissimo la finestra E allora che due coglioni Adesso ti fanculo Ah, così funzionava però Peso Ok Due colpi non siete un cazzo Olè C'è un buco Perfetto ragazzi Finalmente ce l'abbiamo fatta Siamo dentro la nuova prospect Eh, messa un po' a merda Che poi, oddio Combine Tutta la loro tecnologia Ma lasciano la prigione così Ma Sembra un po' troppo Antica Per essere una roba Dei combine Ah, ci ho messo le torrette Posso capigliarla qua? Sì che riesco Una stanza buia Chissà che cazzo mi becco Ah Sono munizioni che non mi servono Perfetto Bastardo Ah, ti vedo Fregato Oh caca Qui la via è aperta Però ci sono le torrette Quindi dobbiamo fare molta attenzione Eccola Mettiamo la Granata lassù Mi l'ho presa Lo prendo Presa Poi Un osso Non c'ho voglia di spaccarle Quindi le Levo dai coglioni E basta Non c'ho voglia di spaccarle Oh carai Questo è brutto Via dai coglioni Che spade queste di merda Che ritiro Pure i carrelli Quello non è un carrello È un razzo Che crepa Ok È morto A me si lancia una granata Alla in fondo Torretta Torretta andata Oddio Sì Mi dicono che li ho presi Sì Mi dicono che li ho presi Abbassato il cc nei volumi No Vortigaunt Oh no Vortigaunt Oh no Oh no E' pazienza è morto Sti cazzi Non ci sono tantissimi A Black Mesa Sì ma devi stare calmo Oh mio dio Come farò a evitare Questa trappola Coglioni Ripeto Combine Megatecnologia del mondo E fanno questa trappolina Del cazzo qua Ma va a fare il culo Oddio Torretta Granata Ma si sposa sta merda di cosa Ti fermi vero Ti prego fermati Ok Buongiorno Seguitemi I miei compagni Sono due Pochi mobboni Let's go Piliatelo Piliatelo Vabbè lo pio io Devo scoprirlo manco io Possibile Allora lo pio così Aia Vale Oh Spavento Quelle sono torrette E quello è un barile esplosivo Ma allora siete pure stupidi voi Sono dall'altra parte di un vetro E loro sparano al vetro Aspetta Posso Ah Scherzo Oh 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 Il gioco è un po' seduto Ok Li c'è un bel po' di gente Ci sono dei posti che voglio evitare Quello sarà uno di quei posti E' morto un altro di questi Vabbè Non devo combatterlo io Ok Allora l'ho visto Ah ecco qui Muovetelo E come con la reazione legica ai free man Si è viciato Partito via Eh La smettete di La smettete di baggare Però Basta Devo prendermi una pausa Ok ci siamo Quelle sono torrette Forse posso andare Posso mai passare questa zona E Sono queste ventole Sono Cure Munizioni E tutto E tu sei brutto Tu sei tanto brutto Ti prego Muori Esplodi ora Veste di merda Muori Lì c'è un'altra trappola Dov'è Sarai Vai Oh c'è il barile Nell'angolo In castigo Un cattivo torretto Vabbè Scendiamo qui giù Cos'è la messa? No No E' rotto i coglioni però Veste di merda Esplodi Au Tutto bene Quel che finisce bene Alex Questo è storto Sì 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 Ci sono E' accessibile C'è un'altra affidêu Non Attentare l'arte E' A falta di un po' Non avvisare Ha A domen Mengenze Un'altra persona di Vortigone viene capito e manda le informazioni, ma non abbiamo una foto completa del posto. Il piccolo Duno è tutto male. Allora, qui! Questo mi entrava nel sistema di sicurezza. Allora! Allora, io credo che posso prendere. Lì è! Allora, vediamo se posso prendere questo aperto. Ah, non è aperto. Ah, ok, provo adesso. Ok, provo adesso. Signore Eli! Eli Vance! Ciccio! Mi senti? Signore Eli, mi senti? Allora? Ciao! Ho parlato con il Dr. Kleiner. Il suo portale è quasi lavorato ancora. Se si riesce a ripararlo, finirà lì. Non possiamo lasciare Judith qui anche. Non ti preoccuparti, padre. L'abbiamo trovato. Per ora... ...l'ho sentito alla teleposta. Allora, Judith? Judith? Mi impuzzo qualcosa con quella Judith? Sicuro? Sicuro che... No, no, torna in... torna in... basta! Sta... Ehhh... C'ho una radio? Cazzo, mettiamo su un po' di Skrillex! Ci penso io! Ci penso io! C'è un po' di S. C'è un po' di Marble che si è andata in la parte. Sì, ci sono le ruole. Ci dovrebbero essere alcuni turni di Combine. Uh! Ah! Adesso non mi rompete più i coglioni a me eh. Questa parte è praticamente un noioso Tower Defense, quindi vi schifo tutto quanto. Ahà! Oh! Scusa, mi è stato un po' di tanto tempo. Scusa di vedere che sei ok. È stato un po' di rotto di coglioni. È da tua area. Non mi chiamare di quello. Cosa è lei? Hai parlato di un po' di Mothman? Oh, mio Dio! I soldi... erano un po' overzealousi, lo dimentico, ma... ...l'era troppo tembile di un prezzo semplicemente tornare a perdere. Especialmente nell'absenza di Gordon Freeman. Avrei avuto Freeman se fossi paziente e ci aspettavano il mio segnale. Scusa... Hai lavorato per e-commen, brutta bastarda! ... Dr. Britton, come ho detto prima, devi lasciare Eli come around... Io ho conosciuto Dr. Vance molto più lungo di te, mio amore. Probabilmente i vostri sentimenti per lui potrebbero blindare te... I vostri sentimenti? Questo non ha nulla di fare con i sentimenti. È una vera semplice che quando Eli crede... Questo non è open per dubbare, Dr. Mossman. Doctor, per favore! Scusate, Judith. Mi sono quasi senza tempo. Non appena... non appena la vedo. Si pia un colpo in testa. Adesso però questa parte come la supero... Che cosa mi dice che devo fare... un ponte? Te... Ya... no... Allora... Che fai... Ah... A 피... Sicuro che mi danneggia? Sicuro che mi danneggia? Spera, attuanta... Fai 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 Oh shit Aia Oh mio dio Oh nooo Un'altra tower defense Oh Oh finalmente No guarda dove mi servi di aiuto? No guarda c'erano giusto delle zorrette che continuavano a cadere Porca fu Matti una mossa Great, un'altra station security Allora Marcel, dove sei? Ah, eccola lì Founder Ha, ho trovato ora Oh 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 come on Gordon Come on Gordon We need to keep her waiting Hello? Oh, grazie Alex? Gordon How did you get in here? That's it All about you and Green What? You've been a spy for the Combine the whole time What are you talking about? Dammit Move back Mossman, we're coming in Yeah I'm a spy Oh 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 Che cazzo è tutta sta puttonata? Sì, certo. Sì, certo. Sì, sì, certo. Sì, 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 sì. Quindi, questo è il porto di combino. È più piccolo da come immagino. Ti tengo d'occhio, Mossman. Moss, no, Mossman, non cazzo, vai. Brutta p... Brutta p... Vieni qua, che ti piace! Vieni qua, che ti piace! No! Vabbè, saranno da Kleiner, dai. Sono da Kleiner, dai. Dr. Kleiner, devi stoppare loro! Stoppare loro! Oh, ma... Oh, no, no. Che coordinate sono queste? Occhè? Occhè? Oh, cazzo. Covermi, Gordon. Ho bisogno di restare il portale. Non usare i turisti. Oh, mio Dio. Un altro tower defense. Oh... Ci sono! Ah... Porca boia! E quelli che cazzo sono? Eh, non potete spararci, coglioni. Però non mi piace cosa sta succedendo a sto teletrasporto. E... Cosa sta succedendo anche a questo posto? Oh... Ci siamo! Oh... Uh... Ah... Cosa è Dr. Kleiner? Sì, ma calmo, Kleiner. Alex? Gordon? Oh, mio Dio! Come si è arrivato? E quando? Cosa sta succedendo? Ah? 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 Ah... Ah... Cosa? 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 Il mio cannone Tau! Il mio cannone Tau! Si, non me ne frega un cazzo del loro teletrasporto. Ho trovato finalmente nuovo il cannone Tau. Yeeey! L'ho perso nella macchina nel... Nell'altro capitolo. Barney! Dov'è quella cazzo di birra che mi dovevi? Alex e Gordon hanno appena arrivato. Oh man, questa è buona notizia. Ho quasi giocato voi per la perdita. Noi stavamo mettere un'area per attaccare la Citadel. Gordon e Doc possono andare al vostro. Io voglio trovare il Dr. Kleiner in un'altra parte più sicuro. E poi vi metterò con te. Io prenderò tutto quello che posso dare. Io prenderò tutto quello che posso fare. Oh crap! Incoming! Go on! Get goings! Ok Gordon, hai ascoltato. I'll catch up with you as soon as I get Dr. Kleiner settled. Ok. Oh Dio la Mar. Ecco... Kleiner è colpa di Lamar se siamo arrivati fino a qua. Gordon... Take care of yourself out there. Va bene, va bene. Dr. Kleiner, there's really no time. Cosa c'hai qua? Voi insieme con l'Smg. E vabbè. E quindi ragazzi se questo video vi è piaciuto lasciate un bel commento, mi piace. Iscrivetevi al canale se volete... Se voi non volete perdervi il prossimo capitolo e probabilmente finiremo l'intero gioco. E noi ci vediamo in un prossimo video. Di ciao dog. Ciao dog. Ho detto... Ho detto dog non cla... Così si fa bel cagnone. Vabbè, ci si vediamo nel prossimo episodio. Ciao ciao. So... Grazie.